Bene, noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Manoncini, a Benito Corradini, a tutti voi, soprattutto la musica, di queste due fantastiche musiciste, una salito alla telecamera e vorrei fare un applauso sia per sentire amici che soprattutto per realizzare, non perché sia la più drama o la meno drama, ma perché pochi giorni fa ero all'ospedale, eppure la brava Leone è qua, quindi un applauso speciale. Ma comunque non si doveva dire, però io lo dico perché è fantastico, allora abbiamo scelto, d'accordo con Maria Luisa, di aprire questo incontro, che sarà bello, è all'insegna dell'arte, della fratellanza, dell'amicizia, con una persona giovanissima, che è una di Maria Luisa, come ti chiami? Già Sabatilli, che io già conoscevo in foto, e da quanto tempo sono il violino? E la musica per te che cos'è? L'amore, la vita, tutto? Bene, noi siamo con lei perché vediamo l'arte e la vita e la musica anche grazie a Bruno che c'è un'altra, se non era per Bruno, se non era per Bruno non eravamo qua, quindi anche se è un collanto, anche se oggi tu hai già suonato tantissime volte, siamo ormai esperta, di qualcuno scenico, però io farei un applauso. Cosa è il tuo suono? Il concetto, insomma, maggiore è di Antonio Vivaldo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.